Abbiamo un ospite, permettetemelo, incredibile, uno di quei grandi maestri che difficilmente puoi portare in televisione, anche perché è un uomo impegnato a creare, un uomo impegnato a collegarsi con quello che non si vede. Abbiamo ospite il maestro Giovanni Nuti, faccio un applauso che arriva da tutti i telespettatori. Grazie Paolo, un saluto a tutti i telespettatori. L'ultima telefonata che io ho ricevuto dal Damerini era ricoverata al San Paolo, come tu sai, e le ultime sue parole sono state ricordati che tu sei stato la mia musica, la mia gioia e fammi ricordare come la poetessa della gioia. Difatti io non mi stanco mai durante le interviste a ricordare al Damerini perché chiaramente tutti pensano al manicomio, al dolore, alla sofferenza e quindi Alda voleva perché anche l'inferno, lei lo chiamava l'inferno, lei se l'è goduto, dice io non mi sono fatta mancare niente, io ho apprezzato tutto dalla vita. Questo è il messaggio grandissimo, soprattutto per i giovani. ma anche disteso per terra, io canto ora per te, le mie canzoni d'amore, le mie canzoni d'amore, le mie canzoni d'amore, le mie canzoni d'amore.